Dante è l'autore della catastrofe. Dante è l'autore che rappresenta con la sua opera, con la commedia, una condizione storica, una condizione sociale, una condizione morale precipitata nella catastrofe. Trentenne Dante inizia a partecipare alla vita politica di Firenze, ricopre cariche importanti pubbliche come quella di Priore e Dante è del partito dei Guelfi Bianchi, opposto in città al partito dei Guelfi Neri. Quando i neri prendono il potere nel 1301 Dante è condannato all'esilio e durante l'esilio è ospite di diverse famiglie nobili in Romagna e vagabonda di corte in corte. Qual è la catastrofe che riguarda la storia di Dante? Innanzitutto il Dante della commedia, il Dante più importante, è un Dante che ha vissuto una catastrofe privata. La sua catastrofe privata è l'esperienza dell'esilio. Dobbiamo immaginare che Dante viveva a Firenze al momento dell'esilio, quando aveva circa 35 anni, nel pieno del successo. Aveva fatto la carriera politica ed era diventato Priore. Il Priore era nel sistema dei poteri fiorentini una specie di Presidente del Consiglio, sia pure a termine, sia pure condividendo con un'altra personalità la carica. Quindi aveva raggiunto il massimo successo politico possibile. Aveva impegnato le proprie energie nella scrittura letteraria ed aveva raggiunto anche in questo campo una fama straordinaria, diventando probabilmente l'autore più di successo nella Firenze del suo tempo. Poi a un certo punto la disgrazia politica lo caccia in esilio, lo costringe ad allontanarsi per sempre da Firenze, gli altri 20 anni di vita saranno tutti vissuti peregrinando, in giro per l'Italia, lontano dalla famiglia, con gli averi sequestrati, presto con una condanna a morte che grava sulla sua testa. Quindi Dante vive l'esperienza di passare dal massimo successo alla disgrazia più completa, dalla ricchezza e dalla gloria alla povertà e perfino all'inizio almeno all'anonimato. Ora dobbiamo ragionare sul fatto che questa condizione in qualche modo è dal punto di vista conoscitivo un privilegio, perché forse nessuno conosce meglio le contraddizioni di una società, i limiti di un'epoca storica come colui che è nel bisogno, come colui che non è tutelato, che non è garantito, come può accadere oggi in Italia per esempio agli immigrati. Dante era in qualche modo nelle città che girava lontano da Firenze, in un'Italia ancora politicamente frammentata, una sorta di extracomunitario, se vogliamo usare questa brutta parola, o un immigrato. Era qualcuno che dovunque doveva difendere la propria dignità, che doveva rivendicare il proprio diritto ad esistere, ad avere di che vivere etc. Questa condizione lo mette in un grande stato di sofferenza, ma anche gli permette di conoscere meglio il mondo, lo illumina rispetto alla realtà del suo tempo e gli permette di conoscere attraverso la piccola catastrofe privata una catastrofe storica, una catastrofe sociale, una catastrofe morale che si sta svolgendo intorno a lui.